Le chiedo subito che uno dei problemi più importanti e più sentiti qua del Comune di Cassino è quello legato proprio alla carenza dei loculi e delle aree per la realizzazione di cappelle gentilizie. Ci sono iniziative progettuali per risolvere questo problema, consigliere? Abbiamo attuato già un project financing che si sta sviluppando in materia per quello che è la carenza dei loculi che appartiene al Comune di Cassino. Purtroppo siamo in serie difficoltà perché abbiamo anche carenza di quelli che sono i loculi di appartenenza comunale per emergenze e cose varie che riguardano l'intervento comunale in caso di disgrazie. Io ringrazio apertamente il Sindaco per quello che è stata la fiducia che mi ha dato per questo tipo di argomento perché è molto delicato sia per l'argomento in sé e sia per il rispetto dei defunti che bisogna sempre avere. Secondo me l'impronta di una città in un paese fortemente cattolico è anche dato dalla cura del cimitero per il rispetto del defunto e per i propri cari. Devo dire che abbiamo trovato delle carenze strutturali molto forti sia di arredo che anche di ripresa di quella che è la gestione delle lampade votive. Quindi Caira stiamo lavorando affinché ritorni la gestione al comune e ho preso subito visione insomma del trattamento dei cimiteri e quindi l'adeguamento di nuovo all'arredo e alla sistemazione delle cappelle e dei loculi stessi. Perfetto.